non tornavo a virelonge da quindici anni quell'autunno vi tornai per andare a caccia nella tenuta del mio amico serval che aveva finalmente ricostruito il suo castello già distrutto dai plussiani mi piacevano molto questi posti nel mondo esistono luoghi deliziosi che hanno una specie di fascino sensuale ai nostri occhi si amano un amore fisico chi come me subisce la seduzione della terra ricorda con tenerezza certe sorgenti certi boschi certi stagni certe colline che ha osservato sovente e che l'hanno commosso come un evento felice a volte succede che la mia mente torni a una radura nella foresta a un tratto di spiaggia a un orto colorato dai fiori luoghi visti una sola volta in una lieta giornata luoghi che sono rimasti nel cuore come certe immagini di donne incontrate per la strada una mattina di primavera vestiti di abiti chiari e trasparenti i quali ci lasciano nell'intimo e nella carne un desiderio insoddisfatto e indimenticabile la sensazione di aver appena sfiorato la felicità mi piaceva tutta la campagna di Firelonge era disseminata di boschetti interrotta da ruscelli che scorrevano sulla terra come vene che portano sangue vi si pescavano gamberi trote e anguille divina felicità in alcuni punti si poteva fare il bagno e spesso trovavamo qualche beccazzino fra le lunghe erbe che crescevano sulle rive di quegli eseri corsi d'acqua leggero come un capriolo camminavo osservando i miei due cani che rovistavano davanti a me a cento metri sulla mia destra Serval stava esplorando un campicello d'erba medica seguendo i cespugli che facevano da confine al bosco di Sudre vedi una casupola cadente mi ricordai improvvisamente di come l'avevo veduta l'ultima volta nel 1869 pulita ricoperta di viti col pollame davanti all'uscio non c'è niente di più triste di una casa morta rimasta in piedi soltanto come ossatura rovinata lugubre mi ricordai anche di una brava donna che mi aveva offerto un bicchiere di vino una volta che eravamo stanchi morti serval poi aveva raccontato la storia di quella persona il padre vecchio cacciatore di frodo era stato ucciso dai gendarmi il figlio che avevo intravisto era un ragazzone magro anche lui con la nomea di gran cacciatore di selvaggina li chiamavano i selvatici nome o soprannome chiamai serval e lui arrivò subito col suo lungo passo da trampoliere gli domandai che ne è stato di quella gente allora mi raccontò questa storia quando scoppiò la guerra il figlio dei selvatici che aveva 33 anni s'arruolò lasciando sola la madre nella casa non destava troppa pietà la vecchia e sapeva che aveva soldi da parte rimase sola in quella casa isolata tanto lontana dall'abitato al margine del bosco ma lei non aveva paura era della stessa pasta dei suoi uomini una vecchia selvatica alta e magra che rideva di rado e con la quale non si scherzava d'altra parte non ridono spesso le donne di campagna sono cose da uomini quelle esse hanno un animo triste e senza slanci a causa dell'esistenza tetra e senza luce che conducono il contadino si abbandona all'osteria a una gaiezza fracassona ma la sua compagna rimane seria col volto dalla piega sempre acciliata i muscoli della sua faccia non conoscono i movimenti del riso la selvatica continuò la sua solita vita nella casupola che si coprì presto di neve una volta alla settimana andava in paese a compilarsi il pane e un po' di carne poi faceva ritorno alla casetta poiché dicevano che c'erano i lupi lei usciva col fucile a tracolla il fucile del figlio col calcio consumato dallo struscio delle mani era buffa a vedersi quella spilungona che andava in mezzo alla neve un po' curva a passi lunghi e lenti con la canna del fucile dietro la cuffia nera che le serrava la testa coprendo i capelli bianchi mai veduti da alcuno un giorno arrivarono i prussiani furono distribuiti tra gli abitanti secondo la condizione economica di ciascuno alla vecchia che si sapeva Dana Rosa ne toccarono quattro erano quattro ragazzotti appena abbronzati di barba bionda e occhi celesti rimasti in carne nonostante le fatiche affrontate brava gente anche in un paese conquistato soli in casa con quella donna anziana furono per lei premurosi risparmiandole più che potevano fatiche e spese alla mattina si poteva vederli tutti e quattro lavarsi intorno al pozzo gettando delle secchiate d'acqua sulle loro carni chiare e rosate di uomini del nord nella luce cruda delle nevi mentre la selvatica andava e veniva per preparare da mangiare poi pulivano la cucina lustravano i vetri spaccavano la legna pelavano le patate lavavano la biancheria sbrigavano le faccende come quattro bravi figliuoli attorno alla loro mamma ma la vecchia pensava continuamente al suo al suo spirungone dal naso curvo dagli occhi scuri e baffi folti che facevano sul labbro un cuscinetto di peli neri sapete dove si trova il ventitresimo reggimento della fanteria francese c'è mio figlio quelli rispondevano che non ne sapevano niente capivano il suo dolore e la sua ansia quei ragazzi lontani dalla mamma che avevano per lei tante piccole premure e d'altra parte anche lei sarà molto affezionata ai suoi quattro amici poiché la gente di campagna non sente in profondità l'odio per i nemici della patria cosa riservata alle classi superiori gli umili quelli che pagano di più perché sono poveri e sono oppressi da qualsiasi nuovo onere quelli che vengono uccisi in massa quelli che sono la vera carne da cannone quelli che fanno numero quelli infine che soffrono più di tutti le atrocità e le miserie della guerra perché sono più deboli e non sanno resistere non arrivano a capire l'ordore bellicoso e la suscettibilità dell'onore e nemmeno le cosiddette esigenze politiche che in sei mesi riducono agli estremi due nazioni la vittoriosa e la vinta nel paese quando accennavano ai tedeschi che stavano dalla vecchia selvatica dicevano quei quattro lì hanno trovato la cuccagna una mattina che era sola la vecchia vide in distanza nella campagna un uomo che si dirigeva verso casa sua lo riconobbe subito era il soldato che aveva l'inconvenza di distribuire la posta le dette un foglio piegato in quattro lei trasse dall'astuccio gli occhiali di cui si serviva per cucire e lesse alla signora Sauvage la presente per comunicarvi una triste notizia vostro figlio Victor è stato ucciso ieri da un proiettile che a quanto pare l'ha tagliato in due dato che stavamo accanto nella compagnia io gli ero abbastanza vicino e mi aveva parlato di voi perché vi avvertissi lo stesso giorno in cui gli fosse capitata una disgrazia gli ho tolto di tasca l'orologio per riportarvelo a guerra finita vi saluto cordialmente César de Vaux soldato di seconda classe ventitresimo reggimento fanteria la lettera recava la data di tre settimane prima non pianse rimase immobile così attonita inebetita che ancora non provava dolore pensava ecco ma hanno ammazzato Victor da poco a poco le lacrime le salirono agli occhi e lo strazio le entrò nel cuore da uno a uno arrivavano i pensieri orribili e assillanti non avrebbe più stretto tra le brazza il suo ragazzo il suo figliolone mai più i gendarmi avevano ucciso il padre i prussiani il figlio una palla di cannone l'aveva spezzato in due e le sembrava di vedere quella cosa orrenda la testa cadeva con gli occhi spalancati mentre lui si mordeva la punta dei baffi come faceva sempre quando era in collera e poi che ne avevano fatto del suo corpo almeno gliel'avessero riportato la sua creatura così come le avevano riportato il marito col buco della pallottola in mezzo alla fronte udì delle voci i prussiani erano tornati dal paese nascose rapidamente la lettera in tasca si asciugò gli occhi e li accolse tranquilla come al solito stavano ridendo tutti e quattro perché portavano un bel coniglio rubato certamente e a cenni facevano capire alla vecchia che avrebbero mangiato roba buona lei si dette subito da fare per preparare il pranzo ma quando arrivò il momento di ammazzare il coniglio le mancò il coraggio eppure non era il primo uno dei soldati l'accoppò con un gran pugno dietro le orecchie uccise la bestia fece uscire dalla pelle la carne rossa ma alla vista del sangue che le copriva le mani il sangue tiepido che si stava raffreddando e coagulando tremò dalla testa ai piedi vedeva sempre il suo figliolone spettato in due tutto rosso come quella bestia e ancora palpitante si mise a tavola coi prussiani ma non riuscì a mandar giù neanche un boccone quelli divoravano il coniglio senza far caso a lei che li stava guardando in tralice senza dire una parola rimuginando un'idea col viso talmente impassibile che non si avvidero di niente a un certo punto la vecchia disse non so nemmeno che nome avete ed è un mese che stiamo insieme la fatica compresero quel che lei voleva dire e denunciarono i loro nomi non le bastava se li fece scrivere su un foglio con gli indirizzi delle famiglie rimettendosi gli occhiali sul naso adunco osservò bene quella scrittura sconosciuta poi piegò il foglio e se lo mise in tasca proprio sopra la lettera che le aveva annunciato la morte del figlio a fine pranzo disse agli uomini vado a lavorare per voi e si mise a portare del fieno nella soffitta dove dormivano loro se ne stupirono ma lei spiegò che avrebbero avuto meno freddo e allora l'aiutarono ammucchiarono fasci di fieno sino al tetto di stoppie e formarono in tal modo un vasto vano con quattro pareti di fieno caldo e profumato dove avrebbero dormito stupendamente durante la cena uno di loro si preoccupò perché la selvatica seguitava a digiunare lei affermò ad avere dei crampi allo stomaco poi accese un gran fuoco per scaldarsi e i quattro prussiani si arrampicarono nel loro alloggio sulla scala apiolica adoperavano tutte le sere quando ebbero richiuso la botola la vecchia tolse quella scala poi senza far rumore aprì l'uscio e andò a prendere altri fasci di fieno sino a riempirne la cucina sulla neve andava a piedi nudi e così non si sentiva nessun rumore di tanto in tanto si fermava per ascoltare i ronfi sonori e diversi dei quattro soldati addormentati quando le sembrò di aver ultimato i preparativi gettò sul fuoco uno dei fasci di fieno e appena ebbe preso bene lo sparpagliò sopra gli altri poi uscì dall'esterno a guardare in pochi attimi l'interno della casetta si illuminò di un violento bagliore e divenne un orribile bracere una gigantesca camera crematoria che lasciava uscire dalla finestrina un raggio abbagliante riflettentosi sulla neve un urlo in mane si levò dall'alto della stamberga con un confuso clamore di strazzanti richiami di terrore e di angoscia la botola crollò e subito un turbine di fuoco salì verso il granaio oltrepassò il tetto di stoppie verso il cielo come un'immensa torcia la casupola era una fiamma sola adesso sudiva soltanto il crepitare dell'incendio lo scricchiolio delle pareti il crollo delle travi di cui quel tetto sprofondò e l'ardente ossatura della costruzione dettò in aria con un fumo denso e simile a una nuvola un alto pennacchio di scintilla incandescenti la campagna innevata illuminata da quel fuoco splendeva tutta come una coperta purpurea e argentata in lontananza cominciò a suonare una campana la vecchia selvatica era in piedi dinanzi alla casa distrutta col fucile in mano quello del figlio nel timore che qualcuno dei prussiani riuscisse a scampare quando si rese conto che era finito tutto buttò l'arma tra le fiamme rimbombò uno sparo intanto stava arrivando gente contadini e prussiani trovarono la vecchia seduta su un tronco d'albero tranquilla soddisfatta un ufficiale tedesco che parlava francese come se fosse nato in Francia le chiese dove sono i vostri soldati lei tese il braccio magro verso la massa rossastra dell'incendio che si stava spegnendo rispose con voce forte sono là dentro la gente faceva crocchio tutto attorno l'ufficiale domandò com'è scoppiato l'incendio e lei dichiarò sono stata io ad appiccarlo non le credevano erano convinti che la sciagura l'avesse resa folle allora mentre tutti stavano ad ascoltarla lei raccontò per filo e per segno tutto quello che era successo dall'arrivo della lettera fino all'ultimo urlo degli uomini bruciati vivi insieme alla sua casa non dimenticò niente di tutto quel che aveva sentito e di tutto quel che aveva fatto quando ebbe finito trasse dalla tasca due fogli e rimise gli occhiali per poterli distinguere agli ultimi bagliori del fuoco indicò una carta questa lettera dice che Victor è morto poi indicò l'altro foglio accennando con la testa le rovine ancora ardenti questi sono i loro nomi per scrivere alle famiglie con tranquillità lo detta all'ufficiale che l'aveva afferrata per le spalle e aggiunse scrivete come è accaduto e dite ai genitori che sono stata io Victor Simone detta la selvatica non dimenticatevene l'ufficiale detta alcuni ordini in tedesco la presero e la buttarono contro il muro della sua casa ancora caldo dodici uomini si allinearono rapidamente a venti metri da lei la vecchia non si mosse l'aveva capito aspettava risonò un ordine subito seguito da un lungo sparo un colpo partì in ritardo isolato dagli altri la vecchia non cadde si afflosciò come se le avessero tagliato le gambe l'ufficiale le andò vicino era quasi tagliata in due e nella mano rattrappita stringeva la lettera intrisa di sangue il mio amico serval concluse per rappresaglia i prussiani hanno distrutto il castello del paese che era di mia proprietà intanto io pensavo alle madri di quei quattro bravi figlioli arsi là dentro e all'eroismo atroce di quell'altra madre fucilata contro il muro di casa sua raccolsi un sassolino ancora annerito dall'incendio grazie a tutti grazie a tutti